Non c'è dubbio che la liquidità è un problema grande per le imprese italiane e per le famiglie. Ci aspettiamo dal governo insieme ad un programma di liberalizzazione, un'azione di stimolo nei confronti degli istituti bancari che sono solidi perché aprano in qualche modo il credito alle imprese e alle famiglie e aiutino in questo momento difficile l'economia italiana.